La Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio ospiterà martedì 2 aprile la presentazione ufficiale in conferenza stampa dell'iniziativa teatrale che vedrà protagonista l'Associazione Sant'Arsenio Ieri, Oggi e Domani, che saranno sul palcoscenico del Teatro Amabile di Sant'Arsenio nei giorni del 6 e 7 aprile per portare in scena un nuovo spettacolo dal titolo Mi ricordo un viaggio tra oggetti e cinema passando dalla musica al teatro. L'iniziativa, che sarà presentata nel corso di una conferenza stampa moderata dalla giornalista Federica Pistone, gode del supporto di numerosi partner quali il Centro Commerciale Cassiopea, i supermercati Conad, il Circolo Banca Montepruno, la Fondazione Montepruno e l'Associazione Aluna e Osole, oltre che il patrocinio del Comune di Sant'Arsenio. I due appuntamenti con lo spettacolo che si svolgerà presso il Teatro Comunale Amabile di Sant'Arsenio si terranno sabato 6 aprile alle ore 21, mentre domenica 7 aprile l'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 19. La realizzazione dello spettacolo, che vede come protagonisti a Franco Antonazzo e Luigi Biscotti, è stata possibile grazie anche alla partecipazione dei maestri Giosi Cincotti al pianoforte e alla tastiera, Mariano Cagliano, voce e percussioni, Alfonso Davino alle chitarre, Francesco Pecora al basso e Rocco Romano alla batteria e del coro Amici della Musica di Sant'Arsenio diretto dalla maestra Viviana Palladino. Alla conferenza stampa prenderanno parte, oltre al presidente dell'associazione organizzatrice Giuseppe Spinelli, anche il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, Antonella Pepe, presidente del coro Amici della Musica, l'imprenditore Antonio Biscotti, il direttore generale della BCC Montepruno Michele Albanese, i maestri Viviana Palladino e Giosi Cincotti, oltre agli attori protagonisti dello spettacolo Franco Antonazzo e Luigi Biscotti. Grazie a tutti.